Ma poi hai anche scritto un biglietto per Gianluca che lui si è ritrovato in valigia. Ah sì, io non lo ho, certo. Eh certo, guardiamo insieme la foto di questo biglietto, vorrei capire. Prego, leggi pure. Eh, non ho gli occhiali, no. Ehi, massaggiatore figo, già manchi, grazie infinite per la motivazione personale, gli esercizi pazzeschi e la tua meravigliosa presenza. Hai lasciato un'allegria indelebile che non vediamo l'ora di riabbracciare. P.S., eccoti un motto, perché noi scherzavamo sempre su quale fosse il motto nella casa per questa avventura. Non è la quantità, ma la qualità che fa la differenza. With love, Exo, Sole e Lulu. Ecco, naturalmente l'hai scritta tu, poi Lulu appare nell'angolino, anche per sforzare un po' gli eventuali. No, eravamo insieme che dicevamo vogliamo salutare Gianluci, ci dispiaceva tanto che fosse uscito. Allora, a parte l'allegria che si scrive con l'apostrofo, ma questa è una correzione da maestrina della penna rossa quale sono, ma io voglio che... Ho l'autocorrect sull'iPhone. Grazie. 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 Grazie.